Eh 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 Siamo vicini alla fine, quindi se volete ballare il momento mai Siamo vicini alla fine, sono vicini alla fine Siamo vicini alla fine, sono vicini alla fine Oh ma Dio, ma Dio Antonio Ragosta, la chitarra per voi stasera Siamo vicini alla fine Siamo vicini alla fine Siamo vicini alla fine Siamo vicini alla fine Al basso Sergio Dineo Grazie.